Ho avuto questo riconoscimento dal comune di Pieve di Soligo, quali sono le emozioni? Volevo ringraziare tutti quanti, anche il mio primo insegnante di nuoto Lino e la nostra famiglia soprattutto e anche i miei genitori che mi hanno permesso di fare tutto questo e volevo ringraziare il mio collega che mi ha aiutato a salvare questi bambini Andrea Pregolente di Silea e grazie a lui siamo riusciti a portarli in salvo senza che succedesse nulla e volevo ringraziare il sindaco e tutto il consiglio di Pieve di Soligo per questo riconoscimento, grazie mille Cosa pensi delle parole del sindaco che ha detto, ci sono anche dei bravi ragazzi, non bisogna solo sputare sulle nuove generazioni Assolutamente, infatti bisogna far vedere che ci sono queste persone, questi ragazzi che non sono solo come si vede in tv ma c'è veramente anche della brava gente Grazie mille